26esima vittoria in 30 partite, la Juventus dei 9 infortunati più Cassere su ultimo K.O. passa anche a Cagliari 2-0 e allunga più 18 sul Napoli, d'altronde la corsa a Scudetto è chiusa da mesi. A segnare ci pensa Volucci a metà primo tempo, con stacco perfetto sull'angolo di Bernardeschi, terza rete in questo campionato per il difensore, che dopo il colpo di testa alto di K.E.N. e la mire imperfetta prima di Joao Pedro e poi di Pavoletti, ecco il raddoppio nei minuti conclusivi proprio dell'implacabile Moise Kena, anni 19, al quarto gol in sei incontri dopo le prove maiuscoli in nazionale. Sul centro di Bentancur rapinoso il suo intervento con esultanza polemica per qualche coro di troppo di alcuni ultrarosso.